Cosa sto sentendo? Che diavolo è questa cosa? Cos'è? Cos'è? No, 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 sto in casa, sto in casa, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, per favore. Ma aspettate, chi è Solar? È stato avvistato Solar. Mentre dei bambini erano in pausa, a scuola, hanno avvistato questa creatura con un ghigno malefico in cielo. Ma anche adulti giurano di averlo visto. Tutti conoscono Lunar, che è questa luna veramente malefica. Solar è il suo opposto. Secondo i rapporti, questo fenomeno si è distinto per la sua luce fredda e per un ghigno malefico, che sembrava formarsi al centro della stella. Molti testimoni sono rimasti proprio confusi dopo averlo visto. Non si capisce che cosa è successo, ma sembra che questa creatura li abbia confusi. Solar sembra essere una nuova entità, misteriosa, e mi chiedo che cosa voglia da noi. Questo mondo è influenzato da Solar. Se vedete c'è un sorriso all'incontrario su questa stella enorme. E quindi, soprattutto, la notte saremmo davvero in pericolo. Fidatevi di me. Infatti, dovevamo subito andare a prendere dei materiali per metterci al sicuro il prima possibile. Perché qua Solar non ci risparmierà. No, no, no. Quindi dobbiamo trovare velocemente una caverna. Eccola qui. Mi piace questa caverna. Allora, trasformo subito questa legna qua e iniziamo a fare le prime cose, perché siamo davvero in pericolo. Dobbiamo cercare di essere il più veloci, ma veloci possibile, per quanto riguarda la raccolta dei primi materiali. Anche il ferro, ragazzi. Abbiamo bisogno del ferro prima che qua ci facciano fuori. Perché Solar risveglierà le creature di questo mondo. E capirete. Ottimo, abbiamo già i primi attrezzi. Perfetto. Così andiamo bene. Allora, però, bro, qua ci serve una caverna migliore. Ce ne serve una migliore. Per forza. Se no qua non ne caviamo assolutamente niente fuori. Eh? Qua cosa c'è? Niente. Bene. Sono contento. Allora, cerchiamone un'altra. Assolutamente. Cerchiamo anche di stare molto attenti, perché qua intorno potrebbero già esserci le prime apparizioni strane. Anche se veramente... Ma poi, raga, vedrete. Ci sarà un buio. Ma un buio che voi non vi immaginate. Ah, i polli, ovviamente. Il cibo è importantissimo. Perché se per caso qualcuno ci attacca e ci attaccheranno, perderemo un sacco di vita. E anche di fame. Ovviamente già qui, vedete? Quanta fame abbiamo perso. Eh. È importante cercare di prendersi tutto il cibo. Oh, oh, oh. Bene. Guardate lì. E vedete qua? Come mai è tutto così buio, direte voi, Dunis? Purtroppo è l'influenza di Solar anche questo. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che cosa sono quegli alberi lì? Fermi, 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 fermi. Ci sono già le prime apparizioni. Peraltro, facciamo una cosa da gente intelligente quale noi siamo. Aumentiamo la render distance, raga. Perché se no qua... Dobbiamo vedere per forza. Allora, qui ci sono letteralmente dei tronchi con delle torce di redstone sopra. Porca di quella vacca. Guardate qui. Allora, questo è chiaramente un segno. Le torce di redstone, per chi non lo sapesse, ma immagino che ormai lo sappiate tutti praticamente, le torce di redstone sono letteralmente un indicatore di presenze paranormali nel mondo. Di presenze che non dovrebbero esserci, insomma. E quindi, boh, io prendo questi alberi, non dobbiamo fare arrabbiare l'entità del mondo. Oh mio Dio! Oh mio Dio, avete visto quel solar? Ok. Andiamocene immediatamente nella caverna che abbiamo visto prima, perché abbiamo già capito che questo mondo mi spiace, ma non è normale. Purtroppo è già stato influenzato molto negativamente. Ah! Le pecore! Prendiamo le pecore? Perché qualora fosse possibile, noi dormiamo. Qualora fosse... Anche se non credo sia possibile dormire, purtroppo, perché tanto in questi mondi è sempre così. Prendiamo... Ah, però comunque ci serve per il cibo, eh. Ricordiamoci sempre il cibo. Vedete, infatti io già sto morendo di fame, raga. Adesso tranquilli che mangiamo. Allora. Cibo preso. Adesso l'unica cosa che ci conviene fare è immediatamente scomparire nel buio e andare tipo nella caverna che avevamo trovato prima. Se la ritrovo però, perché potrei averla persa e se l'ho persa è un problema. Perché a noi servono risorse immediatamente, anche perché solar, purtroppo, sta tramontando. Eh, ma lui porterà veramente brutte cose, solar. Appena tramonta, ma già le ha portate, purtroppo. Allora. Ok, è tutto buio. Mettiamo questa torcia che... Non si vede niente, porca vacca! No, vi devo assolutamente modificare le robe. Ok, abbiamo acceso il forno e adesso si vede leggermente di più, ma è assurdo, raga. Qua è tutto buio! No, 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 me ne vado indietro. Ho mangiato tutti i polletti. Comunque con le torce in mano funziona. Possiamo vedere un pochettino di più. Però, vedete, c'è sempre questo muro di buio, che purtroppo è influenzato da solar. Non possiamo farci niente. L'unica cosa che possiamo fare è pregare e cercare di prendere il più possibile risorse. È lì fuori, ho paura che il buio stia arrivando, eh. Ma è il buio vero, però. Accidenti, siamo troppo in pericolo qui. Dobbiamo sbrigarci e svegliarci, perché qui, se no, veramente le cose si metteranno super male. Allora, ok, perfetto. Prendiamo le risorse che troviamo, ecco, del carbone sicuramente potrebbe essere utilissimo. Ma non so, soprattutto perché c'è un buio assurdo. Magari, ecco, io so che la luce vera distruggerebbe tipo il buio, quello là cattivo che fa solar. Cioè una sorta di buio cattivo. È tipo questo qua che vedete, praticamente. Però a me non sembra che stia cambiando molto. Cioè, sì, un pochettino viene illuminato, però il punto è che poi c'è tutto il resto del mondo che non è illuminato. Forse abbiamo bisogno tipo del sole vero. Non lo so, dobbiamo... Eccoci, però eccoci. Sta arrivando notte, sta arrivando notte. Per carità, Gesualdina. Bene. Allora, allora, allora. Oddio mio. Stiamo attenti, eh. Solar sta tramontando, guardate. Guardate qui che occhi cattivi che si vede al tramonto. Ok, allora. Quella caverna lì non andava per niente bene. Oh mio Dio, no, no, no. Siamo in pericolo. Siamo fuori, siamo fuori, siamo fuori. E siamo morti. Ci sono gli zombie. Ok, dobbiamo immediatamente andare tipo in una caverna. Ma in una caverna però buona. Che caspita, mi dia qualcosa di utile. Piuttosto che tutto questo nulla che mi ha dato la scorsa. Perché letteralmente ho trovato solo tre di carbone e delle torce. Ma per favore. Oh, ho visto qualcosa di rosso lì. Eccoci, i ragni. Molto male i ragni. Oh no, qua sta bruciando pure tutto. Accidenti. Dobbiamo togliere... Vabbè, mi sa che la foresta purtroppo brucerà. Eh, raga, non ci possiamo fare niente. Qua è proprio un incendio. Eh, qua ci rischio pure di morire... Ma che caspita è questa piramide qua? Fermi tutti. Non è normale, eh. Non è normale. Avete visto? Lo sapevo io che non era normale. Vediamo qua dentro. Non si trova niente. Mi sa che purtroppo la... La messa solar o qualcosa del genere. Tipo una sua entità, un suo scagnozzo. Forse questa è una caverna che dicevamo prima? Ma insomma, non mi pare. C'è una pozza di acqua, porco! Di quello schifoso! C'è un creeperone! Eppure uno zombie! Bene, siamo proprio cacciati da solar in questo momento. Perfetto. Non poteva andare meglio di così. Un'altra di quelle piramidi. Non è normale però, eh. Ok, entriamo qua dentro. Ho trovato una caverna. Purtroppo qua continua a vedersi proprio buissimo. Oh mio Dio, guardate quanto è profonda questa caverna. È profondo il buio. Si sente proprio l'ansia che sale, purtroppo. Però, qui, speriamo che ci sia del ferro, un qualcosa di utile per carità. Speriamo a cipicchia. Prendiamo il carbone perché è sempre utile in questi casi. Teniamoci sempre d'occhio dietro perché non si sa mai cosa potrebbe sbucare da dietro l'angolo. È veramente pericoloso questo mondo. Io sento come una presenza che mi osserva da lì, raga. Non ci posso fare niente. È come una presenza che mi osserva proprio da lì. Ok, mi sa che questo mondo ha davvero un problema. Dobbiamo risolverlo in un qualche modo, ma non saprei nemmeno come fare in realtà. Ok, sto proseguendo. Ah, qua bisogna stare attentissimi perché c'è la gravel sul tetto, purtroppo. Però magari così... Ok, l'ho fatta cadere. Oh, del ferro finalmente! Oh, è stato un parto trovare questo ferro in sto mondo. Ricordiamoci di stare attenti qua perché ogni volta io mi scordo che siamo in un mondo completamente maledetto. Mi sembra che il ferro sia addirittura più raro del diamante ormai perché davvero, cioè ci ho messo tipo ore per trovarlo. Ok, quindi cerchiamo di tenercelo stretto a questo punto. Eh, qua già la caverna è finita, purtroppo. L'unica cosa che ci resta da fare, purtroppo, è scavare. Oh! Cos'è tutto sto strapiombo infinito? Ok, è una caverna, per fortuna. Beh, per fortuna, insomma, più o meno. Adesso vediamo un attimo se saremo fortunati in questa caverna oppure no. Speriamo di sì. Speriamo che sia una fortuna e non una sfortuna, insomma. E mi si è rotto il piccone. Cos'è quella roba? Oh, c'è della lava, vedete? Ok, allora andiamo verso questa parte. Questa è una mineshaft. Mineshaft. Vuol dire che praticamente qui ci potrebbe essere anche una cesta, una cassa, magari con degli oggetti utili, magari tipo dei diamanti, speriamo. Anche se sono abbastanza rari nelle mineshaft. Però ne avremo bisogno. Io devo stare anche attento ai rumori che ci sono in giro. Infatti devo alzare Minecraft, perché sennò veramente non sento niente e diventa pericoloso non sentire. Perché poi immaginatevi se arriva tipo, non lo so, Aerobrine da dietro le spalle e mi uccide. E tutti conoscono ormai la leggenda di Aerobrine, no? E sto tizio che appare dietro di te. Blocchiamo la lava. Ah, forse non avrei dovuto farlo. Non avrei dovuto farlo, no. Eh, perché ora non si vedrà più niente. Accidenti, nooo. Comunque questa è una vena veramente grande di ferro. Bene, bene, bene. Andiamo adesso da queste parti. E stiamo sempre attenti. Camminiamo in punta di piedi. Perché qui è davvero pericoloso, purtroppo. Eh, ok. Qua la mineshaft continua. Positivo. Io lì vedo dei movimenti strani che mi mettono molta ansia. Qui mi sento... Cioè, questo è un posto completamente aperto. Guardate. Qui ci potrebbero attaccare da qualsiasi punto voi possiate immaginarvi. Non va bene. Qua, ecco. Questo è pure un vicolo cieco. Quindi se arriva... Qui è finita, raga. Se arriva qualcuno. Vabbè. Il loro non riusciamo a... Non riusciamo a prenderlo con il piccone di pietra. Però... Ok. Ok, qua. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Perché... Perché è venuto il suono di Minecraft della caverna? Cioè, perché siamo in caverna? Lo so. Però dico... Mi ha fatto cagare addosso. Allora. No, io ho visto qualcosa. Io sto... Cos'è? Ok. Questa credo sia la mia immaginazione, ma... Che... Ok. Quello credo sia un Enderman. Perché fa delle particelle... Giusto? È un Enderman. Cos'è? Oh mio Dio. Sì, è un Enderman. Ok. Per fortuna. Non dobbiamo guardarlo. Perché ci manca solo lui. Ma purtroppo ho come l'impressione che non ci sia solo l'Enderman qui. Ho sentito un rumore. C'è un rumore. Oltre allo zombie, c'è... Aspettate. No. Sto sentendo cose, raga. Il diamante è buono. Ma sto sentendo cose. Non so se sono io. Probabilmente sono io perché poi... In queste cose mi spavento davvero tanto. Ok. Mettiamo... Facciamo una cosa. Mettiamo questa crafting table qua. Mettiamoci la luce. E soprattutto chiudiamoci. Chiudiamoci per il momento. Chiudiamoci per carità. Poi andiamo a prendere il diamante. Infatti prima dobbiamo mettere il ferro in modo che io possa prendere ovviamente il diamante. Quindi mettiamo del carbone qua. Perché ci serve il piccone di ferro ovviamente per prendere il diamante. Allora. Riorganizziamo un attimo le idee. Quindi... È totalmente buio. Questo mondo è infestato da solar. Controllato completamente da solar. E sto sentendo cose che non dovrebbero... Non dovrei sentire. Questo non mi tranquillizza affatto. Però mi sa che dobbiamo continuare ad indagare questo mondo. Perché ormai mi sta intrigando tantissimo. Allora qui adesso appena mi dà il terzo pezzo. Io vado a prendere il diamante. Insieme a voi. Ok così. Tolgo... Oh. Siamo attenti eh. Perché qua potrebbero esserci dei brutti cattivoni che vogliono farmi fuori. Però non mi pare. Quindi prendiamo il diamante. Anche se è solo uno. Ma potevano essercene un po' di più no? Però qua altro ferro il che è positivo. Ok. Altro ferro è assolutamente positivissimo. Certo. Qua continua sotto. Oh. Porco sbadato. Porco sbadato. Non mio dio. No no no. No no no. Paura ho paura ho paura. L'enderman mi ha fatto pigliare un colpo raga. Mi ha fatto prendere un colpo. Ok. Però va tutto bene. Non sono morto per ora. Quindi. Perfetto. Aspetto qua che mi si cuocia tutto il ferro. E facciamo l'armatura di ferro. Io effettivamente avrei anche il letto. Ma purtroppo in miniera non serviva a niente. Quindi. Oh perfetti perfetti. Sette praticamente. Quindi. Abbiamo tutto quanto in ferro. Ci mettiamo tutto. Perfetto. Le riprendiamo i nostri attrezzi qua. E ora usciamo da qui. Mio dio. Stavo per guardare direttamente in faccia l'enderman. Signore enderman. Può per favore non farmi prendere gli infartini. Cioè gli spaventi. Allora. Adesso mi sento leggermente più coraggioso. Continuo a prendere il ferro. Perché poi le cose in ferro ci si rompono. Ok. Noi adesso continuiamo. E purtroppo qua c'è un vicolo cieco. Allora mi sa che l'unico. L'unica cosa che possiamo effettivamente fare. È andare qua sotto. In questa miniera qui. E qui. Praticamente. Potrebbero esserci tanti mostri cattivoni. Pronti a ucciderci. Brutti cattivi cattivi. E si sentono tipo degli zombie. Degli scheletri. Però non capisco. Dove che si... Ma cos'è sta roba raga? Aspettate un attimo. Non sto capendo. No no no. Fermo dove è. Aspettate sono andato. Ah vedete qui continua. Oh diamanti. Adesso però bisogna stare attenti a non morire. Quindi. Oh altri diamanti. Bene. E siamo a tre. Chissà nel nether allora che cosa ci sarebbe. Perché potremmo anche fare tipo il piccone in diamante e prendere tutte le cose. Tipo l'ossidiana per andare nel nether e vedere effettivamente che cosa c'è. Beh direi che è arrivato il momento di andarcene via da questa caverna. Ritorniamo su. Bene bene bene. Qua solar purtroppo è sempre in agguato. Pronto a farci fuori nel primo momento che capita. Ma per fortuna è giorno quindi mi accontento. Devo dire il fatto che ci sia il giorno in questo mondo è veramente bellissimo. È un sogno. Adesso dobbiamo solo decidere dove stabilire la nostra postazione. Beh allora direi che la casa la costruiamo qui sulla spiaggia. Una casetta piccola e modesta. Non ci serve per ora chissà quanto grande. Anche se chiaramente potrà sempre crescere con il tempo. Basta mettere un po' di cose all'interno. Tipo delle casse. E basta che abbia quattro mura in modo che non moriamo. Sapete com'è. Qui mettiamo tutte le cose. Ho preso anche un bel po' di cibetto. Qui c'è la fornace. Infatti mettiamo la carne a cuocere. Vediamo il tetto. E facciamo le porticine. Perfetto. Ok prendiamo subitissimo un pochettino di sabbia. In modo che noi possiamo. Oh mio dio. Vedere tutte quelle cose strane all'orizzonte. Mi fa ogni volta venire l'infartino. La paurina. Però. Allora. Dovrei prendere forse forse della sabbia. E metterla qui a cuocere. In modo che facciamo il ferro. E oh no. Sta arrivando il buio brutto. E guardate quanto buio. Non si vede più niente. No raga. Guardate qua. È tutto così buio. Oh mio dio. Non si vede niente. Solar ha influenzato ancora di più. Questo mondo. Guardate. Prima non era così buio. Ne sono certo. Che cosa è successo qui? No 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 no. Qua non va bene. Non va affatto bene raga. Non va affatto bene. Che diavolo è successo? Perché è tutto così buio ora? È la luna. È tutto. È stranissimo. Non si vede niente. L'unica cosa che si vede è la nostra casa. Ma da chilometri. Perché è illuminata. E lì si vede già qualcosina più in fondo. Però probabilmente c'è della lava. Mi auguro perché se no. Che cacchio è lì? Cioè non c'è nessuno. Questo è un mondo in single player. Quindi immagino sia solo della lava. Mettiamo immediatamente questi blocchi qua. Così. Aspetta così. E poi così. E in teoria ora siamo abbastanza al protetto. Ok. Mettiamo tutto qua dentro. Mi raccomando. Adesso potrebbe diventare molto pericoloso. Cosa sto sentendo? Che diavolo è questa cosa? Cos'è? Cos'è? No no no. Sto in casa. Sto in casa. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Per favore. Per favore. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Sto piangendo. Oddio. Non si vede niente. È tutto così buio. E poi cos'era quel rumore? Ma che cavolo è? Cosa sta succedendo in sto mondo? È tutta colpa di Solar. Ve l'ho detto. È molti che avevano scritto che è l'eclissi solare. Ma raga. Ma non c'entra in niente l'eclissi solare. L'eclissi solare è quando la luna copre il sole. Ma non c'entra con questo buio. E il fatto che poi comunque Solar rida. Cioè sorride. Non credo che durante l'eclissi solare la luna sorrida. Anche perché poi quella è un'altra cosa. Comunque quelli credo che siano ragni. Raga. 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 Guardate. Oh. Che è? Oh mio Dio. Chi è? No, no, no. Fermi, 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 fermi. No, no, no. Quello è Aerobrine. No. No. Non me dite. Basta. Andate via. No. È scomparso. È scomparso. Oh mio Dio. E sta arrivando pure il giorno. E guardate. Guardate. Cos'è questa cosa? Cos'è? è il suo altare. Questo è il classico altare di Aerobrine. Ma quindi Solar ha risvegliato Aerobrine dal suo sonno. Perché sappiamo che un pochino Aerobrine sta in tutti i mondi di Minecraft. Però non avrei mai e poi mai detto che sarebbe apparso proprio grazie a Solar. Avete visto che caspita... Che caspita ha avuto in mente quell'Enderman. Ma mi ha fatto il jumpscare. Oh! Ho visto... No raga, c'era Aerobrine. No, forse è un fiore. È un fiore, forse. Sto vedendo cose dove non ci sono. Ecco, poi c'è quell'Enderman molto strano. Devo dirvi. Che non mi convince. Affatto. No, penso piuttosto fosse un fiore. Ecco, ci sono anche delle pecore bianche. È facile confondersi in questi casi. Ma prima l'avevamo visto. Non c'è niente da fare. Era chiaro prima. Era palese. Era lì. Cacchio. È più di così. Un esempio più lampante di questo non si può. Quindi questo mondo, raga, è ufficialmente maledetto. Vabbè, ce ne eravamo accorti anche dal buio. O dal fatto che ci fossero degli alberi, delle foreste, con delle torce di redstone in mezzo, eccetera, eccetera. Quindi, sicuramente questo mondo, purtroppo, è maledetto. E poi dal sole che ride, da solar, grazie al topo virillo. Però, però, sapete com'è. Vedere Aerobrine fa sempre, purtroppo, un certo effetto. Speriamo solo che non sia abbastanza pazzo da uccidermi. Se volete nuovi episodi di questo mondo, mi raccomando, commentatemelo. Iscrivetevi al canale e lasciate un sacco di like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!